Buona a tutti startini, eccoci ritrovati su Clash Royale Oggi sono qua per mostrarvi un deck che ho creato da zero Ho preso tutte le mie carte più fate, diciamo, decenti nella mia collezione E ho creato questo deck che state vedendo Ma prima di partire con il video mi raccomando io vi invito a lasciare un bel like a questo video Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale E mi raccomando seguitemi anche su Instagram se volete magari apparire in un mio video Perché infatti potrebbe essere che prendo qualcuno di voi dalle mie stories per giocare con me Detto questo vi elenco le carte del deck e sono Mascalzoni, Bungolfiera, Valkyria, Scarica, Palla del Fuego Il boscaiolo che purtroppo è l'unico che è un po' bassino, devo portarlo su La gang di Goblin e la nostra adorata torre Tesla Che sapete che è una delle mie carte preferite La tattica che usa lo stratino è Boscaiolo, Mongolfiera come attacco Tutto il resto lo uso per la difesa, per difendermi Però ovviamente vanno anche alcune carte come i Mascalzoni e la Valkyria a supportare anche il nostro attacco Però adesso ve lo mostro in azione che è meglio Siamo 5.474 trofei, qua sto facendo su e giù sulle 5.600, dobbiamo cercare, vi ricordo, di arrivare alle nostre adorate 6.000 coppe Ce la faremo? Scrivetemelo sotto nei commenti Storto! Asta che ce la faremo! Oh Asta che povero stortino Andiamo con la prima partita Allora, me la gioco contro Knapp Del clan Wama Allora, vediamo come si comporta lui Ok, sgherri Mascalzoni Uh, gigantone Mettiamo una Tesla qua Ok Ottima difesa Ottima difesa, ragazzi Perfetto Io partirei di qua Col Boscaiolo Vediamo se riusciamo a hittare Hittiamo 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 Valkyria Perfetto Giochiamo la gang di Goblin a destra Perché se no comunque Il suo mega sgherro ci hitta Perfetto Perfetto E anche di là colpiamo Perfettissimo Qua abbiamo diviso il nostro attacco Ed è stato 8 Abbiamo abbassato la torre di destra E abbiamo subito Il nulla Ancora Di nuovo Quindi io Giocherei di nuovo la difesa come prima Abbiamo sprecato 9 Lui 6 Però adesso Ha sprecato anche lui A tutto Io lo farei Boscaiolo tattico a destra La nostra Valkyria Ok Abbiamo urgentemente bisogno Da nostra Gang di Goblin centrale Ottimo Zapp Però lui non itta Io zapperai il suo mega sgherro E lo fermiamo Ottimo Lui adesso potrebbe di nuovo Ripartire col gigantone royale Quindi Ci prepariamo Ci prepariamo Infatti Come non detto Tesla E Mascazoni Ludovic Fulmine gioca A noi ci va bene Perché siamo pronti A giocare Perfetto Giochiamo immediatamente a destra Boscaiolo Mongolfiera Gang di Goblin Perfetto Ottima difesa Ottima difesa In più L'abbiamo fatto male Giocherei Mascazoni Di qua Tesla Come sempre Da questa parte Ci stiamo difendendo Benissimo Stavolta lui ha giocato La combo Collata Quindi io direi Di usare Una palla di fuoco Ok Dove stare molto attenti Adesso Come sempre Valkyria Lui potrebbe giocare La Zapp Quindi cerchiamo di Portarlo da questa parte Zapp Ok Infatti Mascazoni Esatto Ottima predict Palla di fuoco Urgente Ottimo Valkyria Centrale Perfetto Io direi di partire Adesso In attacco destra Ok Ottima Sua giocata Devo giocare La Tesla Buono Il boscaiolo Sotto torre Tesla Ok Palla di fuoco E vinta Vinta GG Ottima giocata Signori GG A noi Buono Vedete Ci siamo difesi Bene In più Abbiamo fatto I nostri Belli attacchi Ottimo Scrivetemi sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di questo deck Andiamo con la seconda Giochiamo contro Mi sa Un cinese Sì perché China 110 Ok Io giocare Il boscaiolo Sulla destra Ok Mascazoni Centrale Tesla Non prende Mannaya Tira una zappa A sinistra Ok A sapere Che il Bombarolo Mi andava A prendere Il mio Goblin Non andava A sprecare Quella zappa Purtroppo Ok Gioca anche Le frecce Perfetta È perfetto 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 Oh Che difesa Che ha fatto Che difesa Che ha fatto È stato bravo Buona però Una hit Tirata Perfetto Perfetto Ricordiamoci Ricordiamoci Che potrebbe giocare Da un momento All'altro Buono Mi sarei Aspettato Il suo Domatore Dietro Invece Non l'ha Giocato Perfetto Giocherà In masca Al suono A sinistra Lui dovrebbe Giocare Lo stregone Non gioca Lo stregone Ricordiamoci Che ha la tesla Anche lui Però io Comunque L'attacco Lo proverei Giocherà In predict La palla Infocata Bellissima Palla Infocata Nostra Bellissima Palla Infocata Da parte Nostra Bellissima Palla Infocata In predict Da parte Nostra Bellissima Torre Tesla Mascalzoni Boscaiolo Ok Zappettina Tattica Ok Ottimo Ok Potrebbe essere Pericolosissima Ottimo 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 Ragazzi Dovevi stare Molto attenti E' rischiosissimo Eh Se ricicla Il tronco E' persa Se ricicla Il tronco E' persa Boscaiolo Eh Ha riciclato Il tronco L'ho detto Di poco L'ho detto Bastava che riciclava Il tronco Di poco Di poco Però non è stata Una cattiva C partita Non abbiamo Giocato male Porca vacca GG a lui Bene Ultima partita Però comunque Come potete vedere Questa deck Non si difende male In attacco Forse un po' Boscaiolo Boscaiolo E mongolfiera Forse non bastano Mi sa che serve Qualcosina in più Lo sapete Tesla Ok Giocare una palla Di fuoco Ma no Non abbiamo Peccato Ragazzi Non abbiamo Peccato Il gigantone Che ci sta Facendo tantissimo Male Ci ha fatto Malissimo Ci ha fatto malissimo Quella palla di fuoco Doveva colpire Anche il gigantone Ho sbagliato Raga Ho missato A un mazzo Comunque Tanto attacco Io la proverei Zapperei Ottima Zapp Dai Una hit E non ci arriva Ha fatto Ha fatto Il giro Ma dai Si deve Mettere A fare Il giro La mongolfiera Ha fatto Il giro Di tutto Il drago Come si chiama Sì Questa è una Avete capito Dai Porcellino D'India Però Allora Vediamo Se lui Vuole Colpirmi La torre Di destra Mi sa Di sì Io Giocherai In mascalzoni Ok Niente Niente ragazzi Male 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 Vediamo se si difende Ok Perfetta Perfetta Giocata Prepariamoci Alla Zapp Su Sul suo Drago Infernale Ok Ottima Torre Fatta Torre Fatta E che Palle Niente Abbiamo subito Troppo danno Da sua Veramente Troppo danno Troppo danno Ragazzi Mannaio Porca Vacca Palla Di fuoco Eh ma la pare È persa È persa Ragazzi Persa GG a lui GG a lui Bravo Ragazzi Andate male Ci siamo Beccati Comunque Contro Degli ottimi Deck Ragazzi Che dire Speriamo che Questo video Vi sia piaciuto Se è stato così Mi raccomando Lasciate un bel like Questo è il deck Che vi consiglio E fatene buon uso Ok Noi ci vediamo Ad un prossimo video Di Crash Royale Come sempre Se ritenete il vostro Serto Ma non troppo Ciao belli Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo